Ho avuto cento donne, voglio arrivare al mille. Ho fatto il pugilato, mi hanno cacciato dalla palestra perché ho picchiato uno. Lavoravo in semilibertà, ero stato 24 anni in carcere, che cosa posso raccontare? Sono accusato di omicidio, bisogna vedere perché mi sono attribuite queste colpe qua. E' una cosa dei giudici, ce l'hanno con me. Non credo in Dio, non credo nei Santi. Io vivo giorno per giorno. Sono innocente, non posso aver commesso quegli orribili omicidi. La coscienza è pulita, parlano solo di indizi che hanno inventato loro. E' tutto un complotto contro di me. Un mostro senza animo e senza pentimento. Un uomo davvero terribile. Un uomo che ha terrorizzato l'intera città di Genova e dintorni. Signore e signori, questa è la storia del serial killer italiano Maurizio Minghella. Ciao, belli da casa, sono Matte e benvenuti in un nuovissimo video. Questo oggi siamo tornati sul teatro dei gialli di Matte, perché oggi vi racconterò una storia, vi racconterò la storia di uno dei serial killer italiani più spaventosi dell'intera storia di questo paese. Se siete pronti a sentire tutto quello che vi sto per dire, preparatevi, perché questo serial killer mi ha inquietato parecchio. E noi abbiamo già affrontato un caso, se vi ricordate, sulla Liguria. Sto parlando di Donato Bilancia. Donato Bilancia, comunque, è un serial killer terrificante e spaventoso. Ma anche il tizio che stiamo parlando, che staremo per parlare adesso, è davvero terrificante. Pronti? Spegnete le luci. Accendete una lucina, se avete paura, perché in questo caso vi servirà davvero tanto. Dunque, iniziamo dal partire che Maurizio Minghella nasce il 16 luglio del 1958 a Genova. L'infanzia di Minghella, se possiamo essere sincero, non è una delle migliori, come i tanti serial killer che noi abbiamo visto nel resto del teatro dei Gialli. Dunque, Maurizio nasce con una condizione piuttosto particolare, ovvero nasce con una asfissia neonatale. Questa condizione, per chi non lo sapesse, è una riduzione del flusso ematico ai tessuti o una riduzione dell'ossigeno nel sangue del neonato prima, durante o subito dopo il parto. Quindi, praticamente, nasce che l'ossigeno non arrivava più e quindi stava letteralmente per morire, se possiamo essere sinceri. Cioè, praticamente, e che questa asfissia neonatale, gli provoca fin da subito un leggero ritardo mentale. Lui, nella sua vita, vive nel quartiere di Bolzaneto, in Val Polcevera. Quando, tra l'altro, quando Maurizio ha sei anni, la madre si separa dal marito e inizia a crescere da sola cinque figli, compreso Maurizio. Quindi, Maurizio è figlio di cinque fratelli. Cioè, è figlio di... è l'ultimo di cinque figli, scusate. In seguito, la madre si lega con un nuovo compagno. Però questo compagno, che per comodità chiameremo... chiameremo Marco. Marco, diciamo, che non è... non era un patrigno... cioè, da sposare. No. Cioè, un patrigno da amare. No. Era un uomo terribile. Questo uomo picchia la famiglia. E, tra l'altro, Minghella, Maurizio, comincia a covare questa esperienza. Gli comincia a covare un odio profondo per il compagno di sua madre. Definendolo, in seguito, durante il suo primo interrogatorio, tra l'altro, vi dico queste parole tratte da Minghella, che ha detto nel suo primo interrogatorio. Minghella disse Era un alcolizzato, e ci menava di brutto. Lo detestavo parecchio. Sovente ho sognato di ucciderlo, stringendogli una corda al collo da dietro le spalle. Come avete sentito, Minghella odiava molto, direi, il suo patrigno. Però, allora, lui frequenta la scuola senza riuscire a superare la seconda elementare, e a 12 anni frequenta ancora la prima. Dal temperamento, tra l'altro, manesco, a scuola, Minghella, diciamo che non ha un comportamento bello, anzi, da altrettanto pericoloso. Minghella, infatti, a scuola, prende i compagni per il collo, e tappa loro il naso o la bocca, onde impedire che gridino aiuto mentre subiscono i suoi soprusi. Che già, ripeto, Minghella a quest'età aveva 12 anni. Cioè, un bambino di 12 anni che fa queste cose è un grossissimo campanello d'allarme. Lasciata la scuola, Minghella, si trova a fare dei lavoretti, tra cui un lavoro che farà per un po' di tempo. Cioè, il piastrellista. Pur continuando a fare degli atti un po' illeciti. Tipo rubare scooter, rubare una moto, e alcune utilitarie. E, tra l'altro, queste sono alcune auto che lui sa solo guidare. Ovvero la Fiat 500, la Fiat 850, per sfacciare sulle strade della Valpolcevera e anche nei dintorni. Perché quindi Minghella, già da piccolo, era un piccolo ladroncolo, è un piccolo criminale, se possiamo chiamarlo così. Cioè, quindi lui, che è un donaiolo, veniva visto, tra l'altro, sempre con delle ragazze diverse, e soprattutto da questo carattere che aveva lui, era stato soprannominato il travoltino della Valpolcevera. Cioè, quindi era una specie di John Travolta della Valpolcevera. Per la sua passione, anche per la disco music. E, tra l'altro, un'altra passione che lui si fa è quella del pugilato. Ma poi viene cacciato, soprattutto, per aver picchiato un ragazzo. Non si sa il motivo per cui ha picchiato questo ragazzo. La cosa mi fa immaginare che Minghella abbia fatto partire una rissa molto a no sense nei confronti di questo povero ragazzo che è... Ecco. Dunque, un episodio che soprattutto segnerà forti ripercussioni nella psiche è la morte di suo fratello. Suo fratello, infatti, morì in moto, scantandosi in moto. Ecco. Da questo episodio, Maurizio, comincerà a sviluppare una morbosa attrazione per i morti. Quindi, da questo episodio diventa un necrofilo. E questo episodio succede ad un'età molto giovanile. E, ripeto, molto giovanile. Dunque, poi lui viene riformato dal servizio di leva per disturbi psichici. Nel 1977 sposa, tra l'altro, sposa. Nel 1977, come lui stesso dichiarò, la quindicenne Rosa Manfredi. Ma questa non era un matrimonio perché si erano incontrati fidanzati. No. L'ha sposata per scommessa. Come lui sottolinea. E, ripeto, è una cosa terrificante. Lui era anche dipendente dalle psicofarmaci. Il matrimonio ha comunque vita breve. Infatti, Minghella è un assiduo frequentatore di prostitute. Infatti, la ragazza perde il bambino in grembo. E, in grembo, in seguito ad un overdose di farmaci. Dunque, l'aborto che ha avuto traumatizza Minghella. E la sua fragile personalità. Nel 1978, infatti, Minghella viene visitato nella clinica psichiatrica all'Università di Genova. E al test del cui risulta di 70, al di sotto della media comunque. Perché è un valore al confine che tra lo spettro della normalità intellettiva e il ritardo mentale. Quindi, era un sì e no, un genio. Cioè, non era un genio a tutti gli effetti, possiamo dire. Dunque, e da qua in avanti, Minghella compierà i suoi primi omicidi. Perché nel 1978 comincia a fare la sua strage. Infatti, il 18 aprile del 1978, Minghella uccide a Genova Anna Pagano. Era una prostituta eroinomane, ventenne. Ripeto, vent'anni. Nascondendo, poi, dopo aver ucciso il cadavere, cosa fece? La donna aveva la testa fracassata ed è stata civiziarla con una penna a sfera conficcata nell'ano. Sì, avete sentito bene. Il cadavere poi era stato trovato nei pressi di Trensasco, frazione di Sant'Orcese, da alcuni pastori. Minghella, tra l'altro, tenta di depistare le indagini scrivendo sul corpo Brigate Rosse. Perché a quel tempo, comunque... Perché a quel tempo c'erano ancora le Brigate Rosse. Però al posto di scrivere Brigate Rosse, scrive solo una S. Brigate Rose. Anziché che Brigate Rosse. Commettendo, quindi, un errore di ortografia. Ma la polizia si accorge subito che del depistaggio, con le stesse modalità, infatti, facendo la stessa identica cosa, quindi questo, non so se sarà il suo modo superandi, ma lo vedremo più là, uccide Giuseppina Gerardi a Genova, nascondendone il cadavere in un'auto rubata e abbandonata. La donna, infatti, venne trovata in un'auto morta e con lo stesso identico metodo che ha fatto Minghella. Tra l'altro, questa auto, sottolineo, che era rubata e abbandonata. Poi, ci fu un altro... Oh, mi... colpì ancora. E arrivò esattamente il 18 luglio, per l'esattezza. Esattamente. non è finita qui, perché Maurizio il 18 luglio colpisce ancora. Il 18 luglio uccide Maria Catina Alba, detta Tina, di soli 14 anni. Che viene trovata la donna, viene trovata... Beh, chiamiamola ragazza perché era una ragazzina. Viene trovata nuda a Val... a Val... a Val Brevenna il giorno successivo. viene trovato il corpo legato con una specie di garrota ad un albero e ha simulato... quindi Minghella praticamente ha simulato una specie di suicidio. Orchestrando tra l'altro un goffo depistaggio presto scoperto. Tina era stata violentata, sodomizzata e strangolata. Inizialmente Maurizio viene arrestato per l'omicidio per l'omicidio un certo Gianni Lamparelli un ex fidanzato di Tina con cui la vittima aveva avuto degli screzzi dei litigi dopo la fine della loro relazione e che in precedenza aveva tentato lui Gianni aveva tentato di instradarla verso la prostituzione ma l'omicidio quello che vedete dopo farà cadere molti sospetti su di lui perché il 22 agosto esattamente il 22 agosto dopo una notte in discoteca ammazza una donna di 21 anni di nome Maria Strambelli era una commessa di origine barese il corpo viene trovato a tre giorni dalla scomparsa nella periferia di Genova e tra l'altro l'ultima vittima accertata di questa prima parentesi omicida di Minghella infatti dopo l'uccisione della Strambelli a Genova si diffonde il vero e proprio panico perché literalmente questi la gente del posto credeva che effettivamente c'era un serial killer e cominciano a soprannominare questo mostro che noi conosciamo l'identità perché è Minghella viene soprannominato il mostro di Genova perché comunque al periodo degli omicidi comunque non era ancora arrivato Donato Bilancia Donato Bilancia arrivò nel 98 quindi dal 96 al 98 quindi letteralmente sono vari anni dopo che è successo e viene soprannominato infatti Minghella il mostro di Genova dopo questo il 22 no che caccio sto dopo l'omicidio di Maria uccide un'amica di Maria Strambelli cioè viene uccida Vanda Scherra di 19 anni e scomparsa il 28 novembre poi il cadavere della ragazza viene trovato viene scoperto nella scarpata che costeggia la ferrovia Genova-Milano nei pressi di Genova la vittima è stata violentata e strangolata come sapete tutte e tre le ragazze erano state uccise sapete quando? sapete quando? lo stesso anno nel 1978 raga cioè venne letteralmente tutte e cinque le ragazze vengono uccise una alla volta cioè capite capite nel momento della loro morte si trovavano tra l'altro nel periodo mestruale Minghella dichiarerà quando una volta arrestato di essere ossessionato di avere un'ossessione spinta verso il sangue delle mestruazioni e di essere prida tra l'altro di un impulso omicida incontrollabile alla visione di tale flusso ematico quindi letteralmente quando vede queste cose parte direi un pensiero malato malato con i contropalle non lo so raga cioè è bruttissimo perché veramente io poi ok abbiamo visto Donato Bilancia che ha fatto veramente delle cose terribili e addirittura si è masturbato su un corpo di una donna quindi veramente non so chi è il peggiore di sti due però direi che non c'è paragone e l'infanzia di questi non è modo di giustificare quello che hanno fatto sia chiaro perché sia Donato sia Maurizio hanno avuto un'infanzia davvero terribile però questo non è il modo di giustificare i fatti non è direi giustificare non è direi il modo dunque Minghella tra l'altro viene scoperto da viene scoperto parto da dire anche gli omicidi accertati e soprattutto vado allora ragazzi Minghella viene arrestato la notte tra il 5 e il 6 dicembre scusate per una piccola interruzione confessa l'uccisione della Strambelli e soprattutto della Scerra ma nega la responsabilità degli altri omicidi viene richiesta tra l'altro una perizia calligrafica tra la calligrafia di Minghella e il tentativo di depistaggio ritrovato sul corpo di Anna Pagano cioè quella del fatto che aveva scritto Brigate Rosse Brigate Rose ma in realtà era Brigate Rosse dunque sia la scrittura che la penna usata per sodomizzare la vittima vengono ritenute di Minghella per l'omicidio di Tina Alba viene ritrovato un paio di occhiali di Minghella sulla scena del crimine quindi era letteralmente colpevole dunque il 3 aprile del 1981 Maurizio Minghella viene condannato all'ergastolo dalla corte d'assise di Genova per i 5 omicidi e da scontare presso il carcere di massima sicurezza di Porto Azzurro in carcere si è sempre proclamato innocente dagli anni 80 e soprattutto anche il parroco il sacerdote Don Andragallo chiese la revisione del processo nel 1995 a 37 anni Minghella ottiene la similibertà e viene trasferito dal carcere al carcere del Vallette di Torino entra nella comunità di recupero di Don Sciotti in una delle cooperative di gruppo Abele dove lavora come falegname dalle 9 alle 17 dunque nel marzo del 1997 dunque dopo aver passato queste queste ore tra l'altro questi giorni in semilibertà Maurizio nel marzo del 97 torna a colpire infatti nel 97 uccide la prostituta Loredana Maccaldi ben 53 anni in casa della donna in via principe Tommaso nel quartiere torinese di San Salvario dunque da qui capite che aveva poteva per Minghella sembrava e dico proprio grande come una casa sembrava che volesse cambiare era sempre tra l'altro era sempre in orario quando doveva lavorare come falegname però sembrava che il travoltino come lo chiamavano il travoltino sembrava essere cambiato sembrava voler avere una vita nuova sì Dio mio quanto si sbagliavano e il 24 maggio scusate del del 97 cosa fa colpisce ancora Maurizio cosa fa il uccide strangola con un laccio di una tuta da ginnastica precisamente a casalette con il laccio di una tuta da ginnastica precisamente a casalette la prostituta di 27 anni Fatima Hidodu spero di averlo pronunciato bene dopo averla piccata e violentata tra l'altro sul corpo della vittima sulla coscia in realtà viene rinvenuto un preservativo contenente tracce spero di che il 14 febbraio tra l'altro del 1998 a Rigoli nel Torinese strangola con una sciarpa un'alta prostituta non ho trovato tra l'altro foto dell'altra vittima che si chiama Fioretta Islami di 29 anni e il 30 gennaio dello stesso anno strangola e uccide con un fulard una prostituta originale di Taranto Cosima Guido detta anche Gina di ben 67 anni uccisa nell'appartamento dove riceveva prima della morte prima dicevo 4 marzo nel centro storico di Torino la vittima venne trovata dal marito che in alcune interviste si dichiarerà ignaro prima della morte della moglie dell'attività di prostituzione esercitata dalla stessa e perfettamente vestita disposta trasversalmente sul suo letto con le gambe penzoroni e le braccia aperte sulle scale del pied del pied a terra della donna vengono trovati due pezzi di carta assorbente da cucina con tracce biologiche di Minghella quindi anche lì si era avventato tra tantissime virgolette non posso dire come perché se no mi bannerebbero il video tra l'altro la guido Cosima era conosciuta nel quartiere e riceveva soprattutto clienti abituali rari erano i clienti occasionali come lo stesso Minghella perché Minghella era un cliente di quest'ultima andiamo avanti e arriviamo all'ultima vittima ovvero Florentina Tina Motoc è un'alta prostituta di 20 anni ed è anche madre di una bambina di 2 anni che vive in Romania viene uccisa dalla notte tra il 16 e il 17 febbraio del 2001 dopo averla percorsa brutalmente al volto e al capo Minghella ha cercato di sbarazzarsi dei suoi vestiti accendendo un piccolo falò sul cadavere infatti vengono trovati molti segni di bruciatura compatibili con la volontà del killer di carbonizzare il corpo della donna questo è l'ultimo omicidio di Minghella terrificante aggiungerei le tracce dell'ina le impronte complete o parziali ritrovate nei luoghi dei diritti vengono trovate anche la sola delle scarpe con abbondanti tracce di peridotite una roccia molto lara nel turinese ma presente in grandi quantità nel luogo in cui era soprattutto invenuto il cadavere della Motuk le modalità tra l'altro simili degli omicidi era praticamente uno stesso modo superandi le modalità degli omicidi e la fascia oraria in cui sono avvenuti tutti dopo tra l'altro le 17 quando Minghella è fuori dal carcere invittua l'ottenuta semilibertà che era stato condannato all'ergastolo se vi ricordate portano la polizia ad arrestarlo finalmente il 7 marzo del 2001 finalmente viene arrestato Maurizio Minghella a casa sua tra l'altro vengono ritrovati i cellulari delle vittime con il numero di matricola cancellato in particolare l'assassino aveva regalato alla sua compagna per San Valentino sapete che cosa? il cellulare di Tina Motuk il giorno del suo omicidio cioè pensate voi la crudeltà cioè uccide la ragazza il telefono glielo prende e glielo regala alla sua compagna pensate voi che gesto romantico sto scherzando ovviamente minchia inquietante il cellulare di Minghella tra l'altro viene inoltre rintracciato nella zona dove si trovava la Motuk la sera del delitto viene condotto nel carcere delle vallette nella primavera del 2001 tenta di evadere tra l'altro fuggendo dalla lavanderia ma riesce ad arrivare solo al primo muro di cinta rendetevi conto cioè questo voleva evadere rinchiuso nel carcere di Piella la mattina del 2 gennaio del 2003 si fa ricoverare per dolori al petto e dal braccio sinistro nel pronto soccorso del del capoluogo lui scende a fuggire da un bagno dello stesso viene arrestato alle 22 dello stesso giorno nei pressi della stazione ferrovia e tal'altro sospettato di 10 omicidi di prostitute ma viene solo condannato per 3 per 4 scusate di essi infatti il 4 aprile del 2003 Maurizio Minghella viene condannato dalla corte d'assise di Torino all'ergastolo per l'omicidio di Tina Motuk e soprattutto viene condannato ad altri 30 anni di carcere per gli omicidi di Cosima Guido e Fatima Hitto ma non è finita qui perché sicuramente vedrete che cosa c'è la corte d'assise gli aggiunge altri 200 anni di carcere vedetevi conto cioè quindi non uscirà mai più dal carcere al momento Minghella è rinchiuso nel regime del 41 bis nel carcere di Pavia all'età di 65 anni tutt'oggi è un uomo che si dice non pentito è un uomo che si dice che non ha fatto niente che quegli omicidi non era colpa sua non era colpa sua se li aveva uccisi non era affatto colpa sua se erano morte queste prostitute e mi dispiace chiamarle prostitute perché erano delle donne che stavano cercando solamente dei soldi letteralmente erano solo donne che stavano cercando dei soldi per campare letteralmente ed è difficile ma veramente difficile che a quel tempo già tra l'altro negli anni 90 era difficile procurarsi da vivere cioè tra virgolette tra virgolette perché alcuni riuscivano a procurarsi da vivere ma d'altri vivevano in situazioni veramente brutte Minghella soprattutto non ha mai dimostrato il pentimento cioè in questa foto come vedete ha uno sguardo vuoto assente letteralmente non gliene frega niente di tutto quello che ha fatto non gliene frega niente cioè se io devo paragonare gli omicidi di Maurizio Minghella paragono gli omicidi di quelli degli altri serial killer che abbiamo visto perché ne abbiamo visti tantissimi ci abbiamo trattato davvero tantissimi serial killer ci abbiamo trattato Donato Bilancia Jeffrey Dahmer abbiamo trattato Albert Fish Richard Ramirez Harry Howard Holmes abbiamo trattato di tutto e di più soprattutto di tutto e di più di Ludwig abbiamo abbiamo parlato anche di di Abele Furlana abbiamo parlato di Luigi Chiatti il mostro di Firenze cioè il mostro di se è ciao il mostro di Foligno che uscirà un video anche sul mostro di Firenze segnalatevelo niente ragazzi questo video si conclude qua spero che questo se vi sia piaciuto lo so era veramente terrificante la storia di Maurizio Minghella spero che comunque abbiate capito un po' la storia di quest'uomo cioè un uomo veramente schifoso e terribile spero che rimani in carcere per il resto della sua vita e le azioni che e il passato di Minghella non è assolutamente giustificabile con gli omicidi che ha fatto chiaro tra l'altro rispondo ad un commento che mi è stato fatto sotto il video del mostro di Foligno mi ha detto tu fai solo questi video per lucrare sulle vittime in realtà no faccio questo video solo per ricordare le vittime non è che faccio questo video per lucrarci sopra perché altrimenti non avrei fatto video a vicenda ed è giusto ed è giusto soprattutto ricordare le vittime che purtroppo sono state state private della loro vita da parte di questi mostri che non vengono assolutamente giustificati per il passato che hanno fatto preparatevi raga perché il prossimo video tra l'altro dei gialli di matte cioè non potete capire cos'è non potete capire cosa vi ho scelto per voi è una persona terribile e qua avete già capito tutto delle tante che io vi ho fatto però comunque è un serial killer che mi ha davvero incuriosito e davvero mi ha davvero terrorizzato ora lo vedremo niente ragazzi ci vediamo ad un prossimo video dal vostro matte è tutto ciao ragazzi grazie a tutti